buongiorno no anche di qui è lunedì però subito la domanda è ovvia ma perché si che posso riaccendere la macchina non amari ormai la benedizione l'emopresa perché nella vita c'è chi parla e c'è chi fa un piano del nonno è nonna maria e abbiamo organizzato una sorpresina e siamo belli carichi vero domani nonno faustino sarà felice che stai fatto che stai fa che stai fa che stai fa una sega e dopo oh ma te fammi passare vaffanculo no mannaggia c***o magna il pane guarda armagna guarda non è cominciato a rubire i coglioni quando sto a mangiare magna il pane dei nascosto bravo sai che dove è? magna il pane nascosto ecco tutte le volte che sto a mangiare i coglioni ma quando ti c***o un fragrante ma da me mi c***o i coglioni se no non sto dicendo magna il pane fa tutte le le cosine su e le nascosto tocca a star zitti eh certo dopo curremo al bagno eh 30 gradi all'esterno forse anche di più ma le nuvole stanno arrivando perché sta nevicando incredibile sono riaperti tutti gli impianti stisciti scistici corvara canazzei selva di valgardena per passare anche limone piemonte incredibile tutto riaperto si sta sciando sciamo curmaier sciamoni e chi più ne ha più ne mette tutto riaperto marona di campiglio guardate quanto ha nevicato incredibile ma quanto ha nevicato o no oh quanto ha nevicato o no? 50 mila grammi di pasta eccoli secondo voi quanti so? sono 50 grammi? si un giorno le pesamo e allora pesali? che peso? pesali? che peso? la pasta? e sentivo un rumorino strano ma forse molto familiare perché è un rumorino arzughe o no? arzughe? che arzughe? eh? oh ma questo significa che è un trappolo di un'idea che già questa settimana ancora ma non è vero i polli? ha fatto lo stronzo ma non è vero i polli? ha fatto lo stronzo ma non è vero i polli? ma tu mi hai pregollato tutto lì? e beh ma si tutta la tavola io? ma mettici il vino allora? ma va a panculo mettici in parla di coglione ma ah! guardate lì! sono stronzo CHE- che bello scherzo questo uno Dei mie preferiti guarda come ride guarda sottSti da Pappi quanto è contento quando mi fa scherzo 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 del bicchiero del bicchiero ta 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 in cui ha creduto sua madre dormimo? te sciacco dico io Ma stai dormito? Ma quel dono, ma che dono? Che fai tu? Ha il riposo degli occhi. Ah, il famoso riposo degli occhi, ok. Eh, e chiudo quella porta. Il famoso riposo degli occhi che... Eh, eh. Allora sai che ti dico, meriti un bel pennellino, va. Chiudo quella porta. Ma il pennellino del posto. Guarda che ti ho dato la testa. Ma a me ti fa un pennellino. Ma sciante di co***o. No. Trilli, volete sapere che impianto audio monta questa macchina? Andate a vederlo. L'ultimo post di Parisi, Dakar, ve lo metto qua. Seguitelo e andate a vedere che cosa c'è all'interno. Si sente, oh. E com'è che non hai capito? Faccia... Ha inventato il clacson. No, a parte il gang. Ma è passata una persona, sai che ha detto? Eh. Ha detto, ma che è questa la succursale del Cimba? Ma... Di me il malato c'è, io ho detto. Malato c'è perché... E chi sarebbe? E io nomi non le faccio, nomi no. Mi distraggio. Ma si fa senti... Com'è la pressione? Ah, sì. Fa senti il cincillà o no, là? Hai lo senti? Oggi vedo anche diversi popoli, eh. Fa senti il sottopalla un po', per favore. Ma smette, va il freddo. Ma come si è comportato? Ma come? C'è un fianco ma massacrato. Oh no, però no. Si ha tutte le coste affondate. C'è anche i popoli. Guarda c'è i popoli. E c'è uno, va. Eh, un altro di qui. Che fa la pressione. Che si era un po'... Che merda. Ma guarda del cazzo. Bombarolo. 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 È il bombarolo. È un po' di cazzo tua, eh. È che è stato? Guarda, ora mi piano paralisi. Ma magari è il buono. No. Oh no, però smettila. Stavolta te l'ho fregato. Hai fatto finta. Vaccalà. 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 Ha ristato a mangiare? Eh? Oh. Dattela a regolare. E tu restai a rompi i coglioni. Eh certo, tu mani e rompi i coglioni. È ovvio. Oggi è venuto capire tutta la roba quando stavo lì. Sì. La vuoi la maionese quella lì? Oh, fa! 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 Fa strilli. La vuoi la maionese? Sì, la maionese. No. Grazie, grazie. Oh ma no. Oh ma no. Oh no. Voglio affanculo, magna se le pame e mi rompi i coglioni. No. È da di grazie. Ho da mangiare o non ho da mangiare? Non è da mangiare. Non ho da mangiare. Oh, allora, non ho da mangiare da rompi i coglioni. Eh. Ma quanto mangia? Oh. Basta! Questa queste due bottiglie sta pieno. Grazie mille, però le beve tutte. No no, le beve una mità. Le beve tutte, eh? Oh, hai capito? No no no, è vero che quando l'apre... È sempre quello il finale, lo che si fa perché quando è tutto toglie... Ma il compleanno non è solo questo. Eh. Vi straccherete di vedere i compleanni mie. Eh, è vero. Eh, è, è, è. Eh, vi straccherete di vedere i compleanni mie. Ne ho finito gli anni, l'ho compiute. Ma fa la faccia... Ma non lo finite. Fa la faccia la comprens. Da coglioni fa. Devi fa così tipo... Come? Così buon comprens. Come? Buon comprens. Mmm. Buon comprens. Buon comprens. Fa la faccia la comprens. Eh, la devo ti dire di l'asma. Fa la faccia la comprens. Lo devo fare. Fa la faccia la fung. Ci da coglioni fa la faccia. Fa la faccina la comprens a Nino bello. Mannaggia il croccato. Eh. Ma chi complimenti a Tony Cairoli che è arrivato secondo in Olanda ieri. Ciao Tony. In gara 2 dopo una grande rimonta. Falli meglio. Ciao Tony. Sì e bravo. Auguri. Ciao Tony. Meglio. Ma vuoi già affanculo? Tu e lui? Il boss. Che stai fa? Ma questo fa? Questo fa? I cazzi degli altri. Posizione tipica per farsi i cazzi degli altri. Noi stiamo qua fuori. Oh. Non ci sarà. Ma che stai fa? Una scoreggia? Oh. Hai fatto una scoreggia? Ma io non l'ho fatto io. Hai fatto? Hai fatta? Tu sei un delinguente. Dammi retta. Dunque a parte tutto ragazzi domani faremo una sorpresa al nonno. Lui non lo sa. Sta andando lì a prendere un giacchettino perché è fresco. E spero che sarà un bel compleanno per lui. E purtroppo grandi cose non si possono fare perché sapete tutti la situazione. Però qualcosina si fa. Quindi fa, si fa. Che faremo? Eh? Domani che famo? Eh che famo? Domantino con il masco facciamo i tagliatelli. Facciamo un bel piatto tagliatello. E ecco. Le hai maniate no? Che hai maniato? La picco ha maniato. No. Quella? Mattiello, no. Ma chiudo la sdraia almeno, no? Oh. Ma chiudo la sdraia almeno. E adesso, eh. Ma non è la mania che è più se ti vede da lì. Metta la scemo da lì. Mi ha scocciato questo campanetto. Mi ha scocciato. Mi ha scocciato la capoccia, sa. Coccodrilli, vi do la buonanotte dal letto del nonno. Beato. Chi come ancora può respirare questa atmosfera perché è veramente fantastico. Sulla camera dei nonni c'è sempre un altro profumo. È bello. Io passo tanti momenti qua dentro perché finché non mi caccia via. Però mi piace anche stare da solo qua a pensare e sentire sto profumo sempre dei nonni. Domani sarà un giorno speciale. Domani sarà il compleanno. E andremo a festeggiarlo su un posto. Quindi state ben attenti. Saranno un po' di persone. Chiaramente gli amici del nonno. Vabbè. Non aggiungo altro. Vedete domani le storie. Mi raccomando. Belli carichi. Domani voglio un miliardo d'auguri. Per il nostro nonno. Ormai è di tutti. Ormai è il nonno d'Italia. Buonanotte.